Bella a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovo video Sono MattialB26, scusate per l'assenza qui sul canale Ma come ben saprete siamo tutti in quarantena E quindi non ho avuto abbastanza materiale per creare un video decente Come potrete vedere anche dal mio nuovo look Ho dovuto togliarmi i capelli perché erano veramente lunghi Allora ho filato la macchinetta in mano a mia madre E questo è il risultato, direi anche abbastanza buono Quest'oggi sul canale vi porto un nuovo mezzo Adesso ve lo presento Ragazzi vi presento un nuovo mezzo Si tratta di un Malaguti Dribbling Che ho acquistato mia mamma quando andava ancora a scuola Quindi quando aveva più o meno 14-15 anni Però è un cinquantino Che però le abbiamo montato un 80 di carburatore Come motore E poi abbiamo qua lo scarico Leo Vince completo E adesso vi faremo sentire il sound E questo è il sound del due tempi Secondo per i suoi anni Suona ancora molto molto bene Ed è partita a primo volto Bene ragazzi siamo in sella al Malaguti Dribbling Stiamo in aperta campagna E adesso vi dirò le prime impressioni No comunque come ho detto prima Per avere tutti questi anni Suona veramente bene Perché poi l'abbiamo mantenuto bene E sentite come suona Cioè comunque quando chiami del gas Lui risponde anche abbastanza bene Ah qua ci sono un po' di sassi Beh non è il massimo del comfort Però dai per un motorino così da usare Un po' per svago Qua in aperta campagna va più che bene E poi è anche bello da pennare Guardate qua Mamma che velocità di percorrenza Ragazzi Sembra quasi di avere sotto un Un super motard Inversione di marcia Comunque ha un botto di sterzo Non so per farvi capire Ma guardate Cioè ti fai un 360 sul posto Che è Non è molto stabile Questo Ve lo posso assicurare Però Quanto si sta bene In aperta campagna In tutta questa rietta Sta proprio bene Bene ragazzi Ora mi sto facendo portare Da mia sorella Speriamo di fidarci Di non cadere Comunque vorrei ricordare Che anche noi siamo in quarantena Però ci troviamo a 200 metri Dalla casa Perché è quella lì La prima lì dietro Quindi siamo A 200 metri E guardate Che spettacolo Bravo Ali Ce la fa Ce la facciamo fare Sta salita No Sì dai 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 Ce l'era Buona Brava Adesso più avanti Là A sinistra Che bello Che bello Bravo Ali Tra poco la patente Frena 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 A sinistra Vai Vai Accelera Bravo Vai Accelera Vai Ma come non va Vai piano Guardate Guardate qua Siamo vicino A una collinetta Spettacolo Ti piace guidare Ali Guarda la strada Però Che mezzo Altro che il KTM Che mezzo Bene adesso facciamo Io di corsa contro mia sorella Con il motorino Mi sa che vince lei Piano Che figata Ragazzi che dire Siamo giunti alla fine Di questo nuovo video Mi raccomando Iscrivetevi al canale E lasciate un bel mi piace E noi ci vediamo In un prossimo video